La legalità e la giustizia sono beni comuni, non possiamo delegare. Solo uniti si può vincere una battaglia contro una piaga che mortifica la dignità umana. E il messaggio ai microfoni di tv siti di Pasquale del Prete, presidente della FAI Antirache Tercolano, dopo il brutale omicidio di Maurizio Cerrato a Torre Annunziata. Una vita spezzata per motivi, abietti, motivi che non dovrebbero nemmeno in una società civile essere presi in considerazione. La comunità di Torre Annunziata è sotto shock e scossa per questo accaduto. Sono anni che a Torre Annunziata purtroppo si è instaurata un clima di sfiducia, di paura e quindi si è data la possibilità ad organizzazioni criminali di poter rimporre la loro oppressione nella vita sociale di tutta la città di Torre Annunziata. Una città che voglio sottolineare è una città sana perché c'ha gli anticorpi per poter far raffermare una vera cultura della legalità. Bisogna dire agli amici, ai cittadini di Torre Annunziata che certe battaglie si vincolano solo quando si è compatti, quando si è tutti uniti. Da soli sicuramente non si chiede di fare atti di eroismo ma tutti insieme possiamo combattere una piaga che mortifica la dignità umana e ci rende tutti quanti sottomessi a pratiche che nemmeno nel Medioevo noi potevamo vedere. I cittadini chiedono una maggiore presenza dello Stato e delle forze dell'ordine ma è importante non girarsi dall'altra parte. Quando ci si gira dall'altra parte si diventa complici e noi non vogliamo essere complici, vogliamo essere protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Le forze dell'ordine che operano su Torre Annunziata ma ritengo in tutta Italia ovunque fanno un lavoro egregio e chiaramente è auspicabile sempre un maggior controllo ma il maggior controllo dobbiamo farlo anche noi cittadini segnalando quelle che sono le irregolarità, quelle che sono le illegalità. La vita di una persona non vale niente, vale niente. Ieri per Maurizio è valsa una sedia, una sedia per una vita. A Dercolano invece un'auto che uguale a quella del camorrista consente un omicidio efferato. Il sicario che ha ucciso l'innocente Salvatore Barbaro a Dercolano aveva pattuito una cifra per questo omicidio. Ebbene questa cifra è stata dimezzata perché aveva sbagliato obiettivo. Sbarro di 800 euro, una vita vale 800 euro, ma è importantissima una educazione perché manca l'educazione basilare in certi strati della società. Bisogna agire sicuramente con condanne esemplari il momento in cui si riescono a individuare gli artefici di questi efferati omicidi e la giustizia deve essere realmente giusta. Già da anni e dal 92, a seguito della strage di Capaci, che è stato istituito questa misura dell'ergastolo ostativo, che serve proprio per quelle persone che appartenendo a famiglie mafiose, che si riconoscono in quelle famiglie, in quelle organizzazioni, che hanno abbracciato quell'ideale e quindi da quelle organizzazioni traggono anche il loro quotidiano, ebbene per queste organizzazioni certi benefici sono negati. È un segnale importantissimo. A Torre Annunziata la Società Civile e il mondo dell'associazionismo si stanno mobilitando insieme anche a Libera e a Don Ciro Cozzolino per organizzare una manifestazione simbolica. C'è stato un coinvolgimento di tutte le associazioni che operano su Torre Annunziata, e vi compreso anche l'osservatorio della legalità. Proprio questa sera abbiamo un incontro per definire quelle che sono le linee per una manifestazione che si terrà sabato prossimo. L'intenzione è quella di scuotere ancora una volta le coscienze, far capire che la parte buona di Torre Annunziata c'è. La cultura della legalità può vincere l'abuso, la sopraffazione, la violenza. La cultura della legalità deve vincere, ma la cultura in generale deve vincere, l'arte deve vincere, il bello deve vincere. Dal basso, da noi, da noi cittadini, dobbiamo dare un segnale che vogliamo questa società libera, legale e giusta.